Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. L'Opera Rapid 2021 è iniziata da un giorno e sono già così tante delle belle partite che non so proprio come fare a mostrarvele tutte. Nel secondo video di giornata stiamo per vedere insieme una partita interessantissima giocata tra Dubov e Ghiri al secondo turno. Partiamo! Daniel Dubov con i pezzi bianchi apre la partita con E4 e Anish Ghiri risponde con E5. Arriva Alfieri in C4, questa è l'apertura di Alfieri, molto poco usata, anche se può servire in diverse occasioni. Per esempio serve ad evitare che Nero giochi da difesa russa e in questa posizione Ghiri continua con cavallo in F6. Quindi E4 sotto attacco e qui Dubov come al solito ci sorprende, non protegge il pedone ma continua con la spinta al centro D4. Questo è un gambetto interessantissimo che vedete lascia entrambi i pedoni centrali in presa. Cosa deve fare quindi Nero? Una cosa non deve fare, non deve catturare con il cavallo il pedone in E4. Vediamo velocemente il perché, perché dopo cavallo cattura in E4, il bianco riprende il pedone in E5, il cavallo è già molto esposto, ci sono tantissimi pericoli tattici, pensate soltanto a donna in D5, minaccia di matto e attacco ad un pezzo scoperto, troppi, troppi pericoli tattici, il bianco risulterà già in vantaggio. Quindi ritorniamo a noi, dopo D4 giustamente Ghiri cattura invece il pedone in D4. E per D4? E qui arriva anche cavallo in F3. Quindi Dubov continua a lasciare il pedone E4 in difeso e qui se il Nero accetta subito anche il pedone in E4 si entra nel gambetto Urusov. Gambetto considerato fortissimo, perché se il Nero cattura in E4 sarà poi costretto a difendersi da un attacco brutale e vediamo velocemente cosa succederebbe, perché Ghiri giustamente non accetterà subito il pedone E4. Se adesso il Nero cattura subito in E4, non giocato da Ghiri, la donna ricattura al centro con tempo, il cavallo è costretto a tornare indietro, arriva al fiero in G5, sviluppa un nuovo pezzo, attacca e inchioda il cavallo sulla donna. Il Nero cercherà a tutti i costi di arroccare il prima possibile, quindi al fiero in E7, il cavallo in C3 non permetterà questa spinta al centro in D5 che chiude in un'importante linea di attacco. Questa posizione di solito si gioca prima C6, ma anche arrocco va benissimo, il bianco arrocca lungo, arriva C6, il bianco centralizza anche la seconda torre, vedete, quindi il bianco ha tutti i pezzi attivi, la donna si porterà subito in H4, probabilmente l'alfiere si riporterà sulla diagonale che minaccia di dare il matto, anche la torre in futuro verrà portata sulla colonna H, quindi il Nero non ha sicuramente perso la partita, ma dovrà difendersi veramente da un attacco fortissimo. Quindi ritorniamo a noi, per questo motivo, dopo cavallo in F3, Ghiri non vuole entrare, otto e tutto, in una rapid, in una partita di questa pericolosità, e quindi continua giustamente con cavallo in C6. Cavallo in C6 protegge il pedone in D4, questa posizione si può giocare sia ai 5, che arriva con tempo e minaccia il cavallo, sia lasciare di nuovo il pedone in presa e giocare a rocco corto. Cosa giocherà Dubov? Voi lo sapete già, lui lascerà anche il secondo pedone in presa, quindi a rocco corto, stavolta Ghiri cattura il pedone, qui arriva torre in E1, che attacca e non solo, inchioda il cavallo sul re. Quindi Ghiri è costretto a giocare di 5, che protegge il pedone, ma attacca anche l'alfiere. Ora la continuazione principale è quella giocata da Dubov, che quindi sacrifica, ma solo per un attimo, anche un pezzo, alfiere cattura in D5, e naturalmente la donna ricattura in D5. Ma qui arriva il salto del cavallo in C3, e vedete, è tutto inchiodato, il pedone non può catturare, se no si perde la donna, il cavallo non si può muovere, perché è inchiodato al re. Il cavallo di Dubov sta attaccando la donna, che naturalmente si dovrà spostare, ma più che altro si rivince il pezzo. Quindi, la donna torna indietro in D8, torre cattura in E4 con scappo. Alfiere in E7 fa da scudo al re, e Dubov riprende anche il secondo pedone, perché il primo pedone l'aveva ripreso con la cattura di Alfiere, cavallo cattura in D4. Arrocco corto anche per il nero, arriva Alfiere in F4, un Alfiere che sta guardando, vedete, il pedone C7, perché da qui a poco arriveranno i cambi, che semplificano questo tipo di posizione in un finale. Alfiere in F6, cavallo sotto attacco, ma il cavallo cattura in C6, quindi c'è anche la donna sotto attacco, donna per donna in D1 con scacco, giocato da Ghiri, alla mossa 12, è una novità, quindi la partita diventa originale, perché nell'unica partita che io ho in database, il nero ricatturava subito in C6. Ora naturalmente il bianco deve riprendere la donna, attenzione perché qui non si può prendere con Alfiere il cavallo, perché l'altro cavallo se ne va via con scacco, quindi con tempo, e quindi bisogna che il nero ricatturi in C6. Adesso arriva torre in C4, che non solo attacca il secondo pedone doppiato, ma sta anche proteggendo il cavallo, e quindi sta di conseguenza proteggendo la sua struttura pedonale, ma fermiamoci un attimo ad analizzare la posizione. Dubov ha ripreso entrambi i pedoni, ma ha dovuto concedere la coppia degli Alfieri, ha fatto però un danno, vedete, la struttura pedonale del nero, e probabilmente gli vincerà anche un pedone. Quindi il bianco ha un piccolo vantaggio. Alfiere in F5, attacca il pedone in C2, torre cattura in C6, l'alfiere di Ghiri riprende il pedone in C2, arriva a torre in D2. L'alfiere sotto attacco si riporta in F5, e qui arriva il salto del cavallo in D5. Dubov sta minacciando di catturare l'alfiere, quindi il bianco vuole togliere al nero la coppia degli Alfieri, non solo, in questa posizione Dubov minaccia di togliergli la coppia, facendogli un ulteriore danno alla struttura pedonale. Quindi un danno che Ghiri non può permettersi, quindi questo alfiere torna indietro in D8. Ma adesso arriva alfiere, cattura in C7, quindi mossa 18, addirittura è Dubov che adesso ha un pedone di vantaggio, alfiere sotto attacco, e qui arriva torre in E8. Non si può togliere al nero la coppia, almeno per il momento, perché Ghiri sta minacciando torre in E1, scacco matto, e quindi Dubov gioca H3 per aprire questa via di fuga al suo re. Alfieri in E6, torre indietro in C3, è una specie di trappola, vedete adesso il nero non può cambiare gli alfiere in C7, oppure il cavallo ricatturando vince la qualità, e quindi arriva alfiere in G5. Torre sotto attacco, ma guardate che espansione che farà Dubov sul lato di re, arriva F4 con tempo protetto dal cavallo. Alfieri sotto attacco, si sposta in H4, ma c'è la torre in C3, arriva anche G3. L'alfiere torna in E7, dove è protetto dalla torre, ma quando vorrà, il bianco gli potrà togliere veramente, al nero questa coppia degli alfieri, arriva anche G4. Torre in A che va in C8, l'alfiere si porta in E5, siamo arrivati al nostro cuizzone. Secondo voi, conviene al nero cambiare una torre, quindi giocare torre cattura in C3? Mettete pure in pausa se volete, e a voi la parola. Ritorniamo a noi, perché Anish Giri non cambierà la torre, ma giocherà al fiere in C5 con scacco, ritorniamo indietro nella mossa, cambiare le torri, in questa posizione, tatticamente perde la partita, perché dopo torre cattura in C3, il cavallo cattura con scacco, il grave problema per il nero è che non si può riprendere il pezzo, guardate che succede, dopo torre cattura in E7, c'è il matto forzato in 2, torre in D8 con scacco, quasi matto del corridoio, l'unico modo è interferire con la torre, ma la torre non è protetta, la cattura in E8 diventa scacco matto. Quindi, ritornando a questa, cavallo cattura in E7 con scacco, l'unico modo è portare il re in F8, ma solo adesso il bianco riprende la torre, qui attenzione, non si può catturare con la torre in cavallo, perché si riprende matto, guardate che succede, scusate, guardate che succede, dopo torre cattura in E7, arriva torre in D8 con scacco, l'unico modo come al solito di interferire con la torre, qui sembra tutto a posto, ma in realtà arriva lo scacco di alfiere dal D6, che sposta il re, quindi il re non protegge più la torre, la torre bianca cattura, ed è di nuovo scacco matto. Quindi il problema qual è? Il problema è che, per riprendere il pezzo, bisogna riprenderlo per forza con il re, quindi bisognerà ricatturare in E7 con il re, ma il re perde la protezione del pedone, arriva alfiere, cattura in G7, il bianco ha due pedoni di vantaggio, praticamente partita vinta. Quindi, ritorniamo a noi, altra trappola di Dubov, Ghiri non ci casca, gioca alfiere in C5 con scacco. Il re si porta in G2, e qui arriva F5, qui si minaccia di vincere un pedone, Anish Ghiri cerca di aprire degli spazi, perché la sua situazione è veramente precaria. G5 e il re si porta in F7. Siamo alla mossa 27, ma il problema è che la partita è stata molto difficile da giocare, un problema diventa anche il tempo. Soltanto 30 secondi per Dubov e 40 secondi per Anish Ghiri. La posizione del bianco, vedete, è dominante, e in una partita a tempo lungo sarebbe vincente, ma qui non c'è tempo per trovare troppe sottigliezze. Dubov continua con il salto del cavallo in C7, vedete, sembra un'interferenza micidiale, che quindi attacca la torre, e se la torre si sposta, minaccia di vincere un pezzo pieno. L'unica possibilità per Ghiri è cedere, almeno temporaneamente, la qualità, torre cattura in C7, l'alfiere ricattura. Dubov ha vinto la qualità, ma dovrà, purtroppo per lui, ricedere da subito. Alfiere in B4, vedete, minaccia entrambe le torri, e qui arriva alfiere in E5. Alfiere per torre, Dubov ricattura col pedone, e quindi, rifermiamoci un secondo, è riuscito a togliere a Ghiri la coppia degli alfieri, ed ha creato un pedone passato, e è rimasto sempre con un pedone di vantaggio. Quindi un finale, dove soltanto Dubov può vincere la partita, ma che senza tempo si giocherà soltanto distinto, e sarà un finale interessantissimo. Arriva a torre in E7, giocata da Ghiri, per proteggere la settima traversa, e qui arriva a 4. Quindi il bianco vuole togliere spazio a nero, anche sull'ato di Don. Torre in D7, questo è invece il trucco di Ghiri, perché se adesso il bianco cambia le torri, rimane sì con un pedone di vantaggio, ma sulla scacchiera rimangano due alfieri di colore contrario, e questa è una situazione che generalmente porta alla patta, e quindi Dubov naturalmente non cambierà le torri. Alfiere in D4, qui arriva a 5. È arrivato il momento di migliorare la posizione del re, quindi re in G3. Alfiere in B3, attacca il pedone, ma qui arriva torre in B2. Alfiere cattura in A4, torre in A2, si riprende il pedone. Quindi alfiere in B3, torre cattura in A5, non c'è più niente qui per il nero sul lato di donna, quindi non c'è nessun possibile controgioco da parte del nero. Alfiere in D5, arriva H4, G6, arriva H5, e ora questa posizione è difficilissimo capire se conviene al nero cambiare, oppure se conviene non cambiare. Ghiri cambierà, e giocherà G per H5. Ritorniamo indietro della mossa, che succede invece se il nero non cambia? Succede che la mossa migliore sarebbe re in E6, ma che cosa farà il bianco? Il bianco bloccherà con H6, la posizione sul lato di re, bloccherà tutti i suoi pedoni su case scure, e quindi questo alfiere del bianco non potrà impenserire i suoi pedoni, il re del nero non può avanzare, oltretutto con lo scacco sarà spinto ancora indietro, il bianco quindi sarà libero di portare il proprio re vicino al pedone per supportarne l'avanzata, che sarà sicuramente vincente. Quindi, situazione terribile per Ghiri, dopo questa spinta H5 di Dubov. G per H5, e qui il re si avvicina in H4, re in E8, arriva alfiere in F6, alfiere in E6, il re si riprende il pedone, ora quale sarà l'idea di Dubov? L'idea di Dubov è giocare il re in H6, poi di chiudere la difesa del pedone, quindi giocando alfiere in G7, e quindi vincere anche il pedone in H7. Questo pedone non può cadere, perché Ghiri deve assolutamente difendere, oppure la partita è completamente persa, e quindi trova l'unica idea difensiva buona. Alfiere in F7 arriva con tempo, quindi con scacco, il re si porta in H6, ma il nero ha il tempo di giocare alfiere in G6. Quindi l'alfiere ha consolidato tutta la struttura, ma è diventato esso stesso un pedone, e infatti per Stockfish è come se il nero giocasse senza un pezzo, per il computer è più 5 di vantaggio per il bianco, quindi partita vinta. Cosa farà Dubov? Inizia ad avanzare il pedone passato. Arriva C4, re in F7, e qui C5. Torre in D1, Ora attenzione, attenzione al matto, perché sappiamo che la torre da dietro è sempre pericolosissima, vedete che il re di Dubov non si può muovere, se il nero riesce a giocare torre in H1, è scacco matto. Quindi Dubov da lui, scacco da A7, il re si porta in F8, ma vedete ancora non c'è posto per fare uscire il re bianco. Però Dubov in questa posizione può giocare il colpo del KO, ma pur con qualche decina di secondi in più di Ghiri sull'orologio, non lo trova e proverà delle strade alternative. Vediamo un po' come giocherà il giovane russo. Torre in A8 con scacco, il re si riporta in F7, quindi attenzione di nuovo al matto, il nuovo scacco da A7, e di nuovo il re in F8. Dubov non giocherà alfiere in G7 con scacco, e vediamo perché. Alfiere in G7 con scacco non serve a niente, perché è vero che sposta il re nero, ma dopo che il re si è spostato è l'alfiere stesso del bianco a chiudere la via di fuga al re, quindi c'è di nuovo questa minaccia di matto, quindi questo alfiere in G7 non serve a niente. Quindi ritornando a noi, Dubov cercherà di cambiare le torri, oltretutto proteggendo questa casa di matto H1. Naturalmente se il nero cambia le torri è perduto, quindi Ghiri porta la torre in D2, e minaccia il matto da H2, e di nuovo lo scacco da A8. Re in F7, scacco da A7, mi sono scordato la freccia, ma tanto lo vedete, il re torna in F8, mossa 50, siamo ritornati alla posizione dove il bianco può vincere la partita con un colpo da K.O. Quindi ci fermiamo per il nostro secondo quizone, starà a voi trovare la giusta idea. Quindi mettete pure in pausa se volete, ed a voi la parola. Ritorniamo a noi, perché stranamente, anche se con poco tempo, ma stranamente Dubov non troverà questa mossa vincente, la mossa vincente è il sacrificio della torre in H7. Torre cattura in H7, ora attenzione, e non c'è più il matto, perché il re si sposta catturando l'alfiere, quindi l'alfiere è costretto a catturare la torre. Il re vince l'alfiere, vedete che qui il nero non ha possibilità di vittoria, cosa potrà fare? Potrà dare uno scacco, ma il re si sposta in G6 e si potrà mettere dietro il pedone passato. Ma guardate che succede, intanto anche perdere questo pedone per il bianco non significa più di tanto, perché dovrebbe comunque riuscire a vincere, ma con l'alfiere in E5, addirittura il pedone è tatticamente protetto, infatti adesso il nero non può catturarlo, se no, vedete, arriva questa terribile forchetta con scacco che vince addirittura anche la torre, e quindi dopo l'alfiere in E5 il nero non potrà fare altro che tentare di migliorare il proprio re. Ma qui arriva lo scacco che protegge anche il pedone, ma anche se non ci fosse stato lo scacco il pedone non cade più, l'alfiere è sicuramente migliorato, sta pure per cadere il pedone in F5, quindi il re tenterà almeno di proteggere il pedone. Ma il re del bianco si sposta per far avanzare il suo pedone passato, l'unico modo è riportare indietro la torre. Arriva G6, il nero gli dà uno scacco, ma il pedone stesso farà da scudo avanzando al proprio re, un nuovo scacco, il re si porta in H7, se adesso arriva torre in H7 con scacco, come dicevamo, il pedone avanzando fa proprio da scudo al suo re. quindi l'unico modo è tentare di conquistarlo con il proprio re. Arriva G7, torre in A7 per inchiodare, quindi attacca due volte il pedone, qui non c'è tempo di avanzare perché gli vince il pedone, ma qui è tutto su case scure, arriva un nuovo scacco che difende anche il pedone. Il re si sposta, il re bianco avanza in H8 e qui naturalmente si promuove semplicemente, anche se arriva lo scacco. non c'è problema perché il bianco vince la torre e dopo vincerà il nuovo pedone e vincerà la partita. Quindi questa era l'idea vincente, ritorniamo alla nostra partita al punto in cui Dubov purtroppo non lo trova, continuerà con questi scacchi di torre, torre in A8 con scacco, re in F7, un nuovo scacco, re in F8, un nuovo scacco da A8 e la partita terminerà, questa mossa, la mossa 53, patta per ripetizione. Quindi un vero peccato per Dubov che aveva giocato la solita partita straordinaria tra apertura e medio gioco e purtroppo mezzo punto buttato via in un inizio di torneo che non è troppo felice per il giovane russo. Vi lascerò la classifica in descrizione ma vi consiglio di non guardarla perché così eviterete spoilers per le prossime partite e tanto per adesso questa classifica conta anche molto poco perché ci sono altri 10 turni e quindi ci conviene guardarla in seguito. Comunque, oggi ho fatto un po' gli straordinari, domani però non ce la farò a fare due video perché sono fuori per i lavori di casa nuova. Spero che la partita vi sia piaciuta se vi è piaciuta non scordate il like ma soprattutto non scordate di iscrivervi al canale così guarderemo insieme tutti i migliori torni di scacco. Ci vediamo domani con un nuovo video e a presto. Grazie. 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 Grazie.